Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dunque ho appena terminato la live con guida informatica l'audio dovrebbe sentirsi molto forte e come sempre vediamo da vicino subito iPhone X in descrizione se riesco su techstart.it pubblicherò un articolo di approfondimento, non so se riesco a farlo immediatamente però vediamo comunque il nuovo iPhone che è quello X semplicemente è un riepilogo di quello che è stato presentato l'iPhone 8 l'Apple Watch 3 l'Apple TV 4K che possiamo tranquillamente esaltare, l'Apple Watch serie 3 più bello, più figo e tutto il resto i cinturini bellissimi, puoi utilizzarlo stand alone quindi utilizzarlo per chiamare senza il telefono, questa è la vera novità parliamo in modo approfondito degli iPhone nuovo chip A11 per entrambi l'iPhone X è uguale all'iPhone 8 in termini di diciamo caratteristiche tecniche però ha quel display spettacolare che adesso andremo a vedere tutto vetro, molto bello, 3 colorazioni per l'iPhone 8, disponibile in due versioni 8 e 8 Plus stesse dimensioni del 7 praticamente è uguale doppia fotocamera fotocamera un pochettino migliorata ricarica wireless per entrambi che si chiama AirPower per Apple dimensioni uguali 4,7 e 5,5 opinione personale è già antico cioè l'unica novità che è bella è stata fatta bene è l'iPhone X infatti vi faccio vedere praticamente per completezza di cose anche l'iPhone 8 ma la vera novità sta appunto nell'altro display il display è il solito è sempre un retina sempre bello colori molto precisi il display degli iPhone l'abbiamo visto pure nella recensione dopo che l'ho provato stesso io il 7 è ottimo il chip più potente della gente mai creato per uno smartphone l'A11 che abbiamo visto più veloce è tutto il resto potete vedere direttamente dalla pagina del sito Apple la particolarità sta nel prezzo 8,39 per il 4,7 e 9,49 per l'8 Plus stessi i rezzi che conosciamo 64 giga e 256 mille euro per il quello standard da 4,7 per il Plus se non sbaglio 1100 euro la novità vera però appunto sta in iPhone X iPhone X andiamo da vicino l'iPhone 8 è disponibile dalla settimana prossima tra 10 giorni disponibile alla vendita si può preordinare dal 15 mentre al 27 ottobre si può preordinare iPhone X che uscirà il 3 novembre quindi ci vuole tempo differenza dalle solite presentazioni di Apple dove praticamente il prodotto è disponibile da lì a una settimana tutto schermo la parte che non è schermo è piena di sensori e ha il Face ID che è la vera innovazione scansione con 30.000 punti del proprio volto non si può bypassare una combinazione su un milione a quanto è stato spiegato al posto del Touch ID che era una su 50.000 e non è eludibile tramite una foto come per i smartphone Samsung perché in questo caso ovviamente la scansione è tridimensionale non è solo una fotografia non è solo l'occhio o il resto display OLED quindi soggetto a degrado ma il telefono lo terrete due anni due anni e mezzo tre anni non lo so non avrà un degrado in questo raso di tempo più limitato di solito queste cose le vediamo nei televisori che teniamo per più tempo contrasto di un milione a uno ed è tutto schermo gesture apposite per diciamo ritornare al menu principale come vediamo questo vi volevo far vedere nel frattempo arrivo a un listino prezzi che adesso andremo a vedere e l'integrazione con tutto schermo è stata fatta bene questo devo ammetterlo doppia fotocamera anche per questo come per iPhone 8 e con stabilizzazione video in 4K 60 frame per entrambi i telefoni vabbè sono uguali e la doppia lente serve per avere uno zoom 2x insomma un ottimo telefono che però costa veramente tanto vi lascio il link anche di questa pagina e vabbè tralasciamo l'intelligenza solo umana e sono le solite cose gonfiate che non voglio commentare il telefono però mi piace parte da 1189 unica versione disponibile 5,8 pollici quindi vabbè io ho l'S8 Plus un S8 normale come dimensione rispetto al Plus è tutto schermo appunto ed è OLED ed è entrambe le colorazioni nero nella parte frontale così si mescola perfettamente con lo schermo e non si vede dove inizia la cornice più o meno 1189 per la versione da 64 giga se non erro e si 64 e 1359 256 un telefono discreto comunque molto bello però costa veramente tanto 1200 euro il il Note 8 già si trova 7,99 cosa è il 50% in più questo quindi non so veramente come commentare magari fatemelo sapere voi con un commento cosa ne pensate del prezzo lasciate un like al video se il video vi è piaciuto e se volete dire la vostra cosa è piaciuto nei commenti iscrivetevi al canale non perdetevi i prossimi video io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima